C'era una volta in un piccolo villaggio una bambina di nome Eliana. Aveva gli occhi castani e i capelli biondi. Era una bambina molto dolce, sempre sorridente, ma lei non parlava con nessuno. Eliana era una bambina molto silenziosa. Gli abitanti del villaggio mormoravano che una vecchia strega le aveva fatto un incantesimo o addirittura le aveva rubato la voce. Ma erano tutte menzogne. Eliana era solo molto timida, ma siccome il villaggio era piccolo e ogni volta che passeggiava sentiva le chiacchiere della gente, le frasi erano sempre le stesse. Guarda, la bambina strana, la bambina senza voce, la bambina muta, eccetera eccetera. Eliana soffriva molto per queste chiacchiere, così si chiudeva ancora di più in se stessa e non parlava con nessuno. Un bel giorno la bambina andò al lago per giocare con le papere, quando dietro ad un cespuglio uscì una fatina di nome Gegè. Piccola piccola e con la faccia molto simpatica si avvicinò alla bimba e disse, ciao Eliana, io sono il tuo segreto, tutti ti pensano muta, invece io so che tu sei solo timida, molto timida. La bimba annui timidamente. Di me ti puoi fidare, aggiunse la fatina. Così Eliana e Gegè iniziarono a giocare. Passarono le ore, ma Eliana ancora non aveva detto una parola. Giunta sera tornò a casa e Gegè disse, ti aspetto domani, alla solita ora. Per giorni e giorni le due amiche passarono ora a giocare, ma niente, Gegè non riusciva a invogliare Eliana a parlare. Un giorno la fatina, durante uno dei loro incontri, disse tristemente alla piccola. Ora devo salutarti, devo tornare nel mio mondo, non posso più rimanere qui. Avevo un compito, ma non l'ho portato a termine. Ma mentre la piccola fatina stava per andare, la piccola Eliana disse, grazie. Gegè non poteva credere alle sue orecchie. Grazie, tu mi sei stata amica senza giudicarmi. Vicino al lago c'erano degli abitanti del villaggio che non potevano credere che Eliana potesse parlare. E si girò un signore e disse, Eliana ma allora sai parlare? E noi che ti abbiamo sempre criticata e presa in giro, scusaci, scusaci davvero. La fatina scomparì con un'immensa felicità nel cuore, per aver aiutato Eliana a farsi capire da tutti, portando finalmente a termine il suo compito. E da quel giorno Eliana non smise un attimo di parlare. Buonanotte!